Ancora un successo per la giovane ginnasta valdianese della danza e ginnastica Kodokan Vincenza Marmo. Dopo i 13 podi la società valdianese infatti ha ricevuto una nuova soddisfazione, ossia la convocazione per Vincenza Marmo per giovedì 14 aprile per un allenamento regionale in tema alle ginnaste più quotate della regione Campania e di selezione per la valutazione nazionale gold di ritmica. La stessa è anche riconfermata per l'anno in corso per gli allenamenti gold regionali insieme a Laura Barone e Filomena Marmo. A loro si aggiunge Sara Trotta dopo aver superato il test d'ingresso. Intanto a Caserta si è svolta la fase regionale del campionato XAIN di ginnastica ritmica. L'associazione danza e ginnastica Kodokan ha portato a casa ben 13 podi su 14 partecipanti, 8 bellissimi ori e 5 argenti. Grazie a tutti!